Buongiorno a tutti e benvenuti nel nostro canale YouTube. Oggi andremo a spiegare il perché utilizzare l'impianto di anidride carbonica, come assemblarlo e gli eventuali problemi che potrebbero esserci. Innanzitutto spieghiamo perché l'anidride carbonica è così importante nel vostro acquario. Sia le piante in cultura sommersa che le piante in emerso utilizzano l'anidride carbonica all'interno di un processo che si chiama fotosintesi. Il risultato della fotosintesi è la produzione di ossigeno da parte delle vostre piante, il quale è utilizzato sia i pesci per respirare sia per i batteri per decomporre le sostanze organiche all'interno del vostro acquario. Fornendo l'anidride carbonica alle vostre piante permetterete alle piante di fare da biofiltro all'interno del vostro acquario e avere un'acqua ancora più pulita. Gli impianti che io consiglio sono di due tipi. C'è il professional system dell'Aquili e lo small system dell'Aquili. Cosa cambia tra questi due impianti? Cambia principalmente il riduttore di pressione, in questo caso non hai manometri e non a chiusura della bombola, in questo caso c'è due manometri di alta e di bassa pressione e a chiusura della bombola. Ora vi faccio vedere come si montano entrambi. Partiamo dallo small system. Apriamo la scatola. All'interno della scatola troverete una bombola di 300 grammi. Il filetto delle bombole è del 10x1, del tubo per indecarbonica. Qui all'interno ci sarà la guarnizione di ricambio che dopo andremo a vedere dove posizionare, una ventosa, una U per passare il tubo dell'anide carbonica, una valvola di non ritorno e la cosa più importante è l'atomizzatore. In questo modello è di plastica e si può facilmente aprire svitando la ghiera sopra, alzando la pietra porosa, il diffusore, l'atomizzatore, ecco qua, in modo da poterlo riempire di acqua perché questo farà da contabolle. Dopo ve lo spiegherò. Allora, si prende l'ultimo pezzo che c'è sempre all'interno della vostra scatola che è la cosa più importante che è il riduttore di pressione. Allora, per assemblarlo è molto semplice, prendete la bombola, tirate via questo cappuccio giallo che è di protezione, a questo punto avvitate il vostro riduttore di pressione fino alla fine, ok? Ecco qua, basta serrarlo così, non occorre prendere una chiave inglese per farlo troppo forte, se riesca solo di rovinare questa guarnizione. A questo punto si svita il dado di tenuta del tubo, si prende il vostro tubo, si passa il dado all'interno del tubo, si posiziona il tubetto nell'apposito all'alloggiamento e si chiude il dado. A questo punto avete l'impianto così montato. Ora prendete la valvola di non ritorno che ha un verso, praticamente se voi soffiate da una parte il gas passa, dall'altra parte il gas non passa. Questo perché? Perché quando finisce il gas all'interno della vostra bombola, l'acqua rischia di entrare dall'acquario all'interno del tubo e andare a rovinare il riduttore di pressione. Quindi il corretto posizionamento di questa valvola è appena fuori della vasca. Dopo si taglia il tubo, in questo caso andiamo a tagliarlo. Mi raccomando nel verso giusto, si inserisce da una parte e dall'altra il tubo. Ok, montato. Ora arriviamo all'atomizzatore. L'atomizzatore si collega il tubo qua sotto, con un po' di pressione si riesce a farlo passare, se no lo si scalda con l'accendino e lo si posiziona. La ventosa si mette qui sul lato, un po' di forza, e ecco qua, la ventosa è montata. Ora andiamo a riempirlo d'acqua. Si riempi di acqua dell'acquario, si rimette la pietra, si mette la ghiera per bloccarlo. Ecco. Ora, dove si posiziona questo? Questo si posiziona dalla parte opposta di dove esce l'acqua del filtro solitamente. Perché l'acqua deve arrivare da qua, incontra la colonia di bollicine di anide carbonica, quindi le bolle tornano indietro e hanno, diciamo, il tempo maggiore per far sì che l'anide carbonica venga assorbita dall'acqua. È molto importante che le bolle non salgano dritte, rimangano sul pelo dell'acqua e dopo se ne va via. In quel caso là il gas non è assorbito dall'acqua. Quante bolle somministrare su una vasca? Allora, la cosa principale è seguire, io dico sempre, l'indicatore che in questo kit non è fornito, ma in questo qua c'è, che si chiama CO2 checker. Praticamente in base al liquido, al colore del liquido, si può capire se l'anide carbonica in vasca è ottimale o scarsa. Comunque solitamente, facciamo più o meno un conto a largo spalle, a spanne, su una vasca da 50 litri, nel mio caso solitamente uso una bolla ogni due secondi. Su una vasca da 100 litri, almeno una bolla al secondo, più o meno potrebbe esserci, giusto? Ok, quindi abbiamo montato lo small system. Per aumentare o diminuire le bolle all'interno dell'ampollina, si agisce sulla regolazione che è posizionata sul riduttore di pressione. Ogni volta che andiamo a regolare qui, aspettiamo circa 2-3 minuti per vedere le bolle uscire da qui. Non pensate di toccare qui e immediatamente le bolle cambiano qua. Ci vuole un po' di tempo, che è il tempo necessario alla pressione per distribuirsi all'interno di tutto il tubo. Ok, montato lo small system. Vi dico l'ultima cosa di questo impianto che dopo varrà anche nell'altra. Quella guarnizione che vi ho fatto vedere all'inizio, che è quella di ricambio, questa, è quella che trovate qua dentro, perché alla lunga, a forza di evitare le bombole, quella guarnizione la potrebbe incominciare a danneggiarsi e quindi perdereste un po' di rendere carbonica. Si tira fuori con un bastoncino e si cambia, molto molto semplicemente. Ora passiamo all'impianto, il professional system, che è molto simile allo small system, che cosa cambia? Cambia principalmente, qua c'è l'atomizzatore in vetro, qua c'è lo stesso tubo identico, qui c'è il co2 test, che era quello che vi dicevo prima, poi c'è la bombola più grande, perché la bombola è di 600 grammi, quindi è il doppio di quella che è fornita nello small system, imballaggio, e qua c'è il riduttore di pressione. Il riduttore di pressione dell'Aquili, sia nello small system che nel professional system, sono tutti quanti i riduttori medi in Italia, ve lo ricordo. Allora, eccolo qui, quindi c'è la bassa pressione e l'alta pressione. Questa è la vavola di sicurezza, che se sfiata vuol dire che c'è qualche problema, come nello small system era inserita qua all'interno e questo è il buchetto dello sfiato per l'emergenza. Il montaggio dell'impianto è analogo, la bombola viene fissata qui sotto, il tubetto della linea carbonica sul dado, qui si apre e si chiude la bombola e da qua si regola le bolle da fargli fare all'interno del vostro atomizzatore. Un problema, tra virgolette, comunque una scelta diversa di atomizzatore che fa l'Aquili su professional system è l'atomizzatore. L'atomizzatore su professional system è in vetro, che sì, estricamente è più bello da vedere, però personalmente gli atomizzatori, quelli in plastica, questi atomizzano molto meglio, quindi più fine vengono fatte le bolle adenide carbonica, prima l'acqua assorbe l'anidride carbonica. Più grosse sono le bolle, più sono veloci, più vanno verso la superficie, più l'anidride carbonica viene buttata via. Quindi, sì, è più bello l'impianto professional system perché c'è anche i manometri che ti fanno capire quanto si sta scaricando la bombola, però questo qua in vetro vi consiglio di sostituirlo con uno in plastica. La cosa bella che c'è, è che dall'altra parte non lo avete, è il CO2 test. CO2 test è una semplicissima ampollina di plastica che si posiziona 10 cm, che è scritto nelle istruzioni, 10 cm sotto il pelo dell'acqua, ok? All'interno di questa ampollina si mettono le gocce, come come sembra che siano 5, 5 gocce di questo reagente, si mettono 5 gocce dentro l'ampollina, ecco qua, 1, 2, 3, 4, 5, la si chiude, ok? Si posiziona con la ventosa che è data dentro in dotazione. Il colore che deve avere, eccolo qua, all'interno dell'ampolla, è un verde intermedio tra non troppo chiaro e non troppo scuro. Ogni volta che andate a variare il numero di bolle all'interno del vostro atomizzatore, prima che il checker, che è questo qua, vi dica la quantità di energia carbonica corretta in vasca, ci può passare anche un'ora, due ore, non è così istantanea. Quindi ogni volta che andate a modificare il numero di bolle, lo fate molto molto lentamente, con molta pazienza, possono volere anche qualche giorno. Una volta tarato, rimane tarato, questo è quello importante. Anche quando la bombola finirà, il riduttore di pressione manterrà la sua calibrazione. Per quella vasca là è già tarato, quindi basta svitare la bombola, montare la bombola nuova. Quanto dura una bombola? È una domanda classica che mi viene sempre fatta. Allora, una bombola solitamente di 600 grammi su un acquario da 100 litri, dura circa due mesi e mezzo, tre. Più o meno dico, perché anche in base a che piante abbiamo all'interno della nostra vasca, andremo a dare più o meno anode carbonica. Le bombole in commercio sono da 300 grammi, 600 grammi, o c'è anche il formato da 1,2 kg, che è quello più conveniente. La cosa più conveniente in assoluto sarebbe avere una bombola ricaricabile. Queste sono tutte bombole usa e getta, si buttano nel ferro. Le bombole ricaricabili si possono usare benissimo con entrambi i nostri riduttori di pressione, sia questo che questo. L'unica accortezza è comprare, si chiama, un adattatore, che praticamente converte il filetto della bombola ricaricabile nel filetto 10x1, che è quello che serve per il nostro riduttore di pressione. Bene, mi sembra di avervi detto tutto in questo tutorial per l'anode carbonica. Per domande, come sempre sotto il post di Facebook o nel nostro canale YouTube, potete fare le domande. Vi ringrazio e ci vediamo nel prossimo tutorial. Ciao a tutti!